Ciao a tutti, io sono Ambra e benvenuti in questo nuovo episodio di Le cose da non dire a una donna che non ha figli. Se ti piace questo format, iscriviti, commenta, lascia un like, fai tutto quello che devi. Partiamo con il video! Ricordo che questo format non vuole offendere nessuno, sono semplicemente dei fatti realmente accaduti nei miei confronti. Certo, Ambra, che io ti conosco veramente da quando eri bambina, ma ti devo dare un consiglio. Ti devi sbrigare e fare un figlio, perché sennò poi te ne penti, te ne pentirai. Scusami, in che senso me ne pentirò? Fammi capire, non sto capendo. Eh beh, quando sarai grande, di certo più grande di quello che sei ora, dovrai avere pur qualcuno che baderà a te, no? Ah, non sapevo che tu hai sfornato i tuoi figli semplicemente perché da grande vuoi avere dei badanti gratis, che magari forse non li avrai neanche, perché magari sei talmente tanto stronza che non ti vorranno neanche più vedere quando sarai vecchia. Quindi impara a farti i cazzi tuoi, perché credimi che sei sulla buona strada per rimanere da sola. Grazie. Grazie.